e poi ovviamente anche quella di YouTube, così giusto per andare a raggiungere anche tutti i nostri amici sul mondo del web. Oggi si parla di sport, di calcio e con noi anche Mario Molteni che mi assiste come al solito, anzi poi conduce lui ovviamente, con un gradito ospite per il quinto, ormai ha messo radici, ha messo radici qui a Como, lo abbiamo incontrato già ai tempi dalla Serie D, durante quelle mitiche battaglie. Era un ragazzino, è cresciuto, gli anni sono passati, ancora un ragazzino, Edoardo Bovolonti. Esatto, quindi subito la parola a lui, Edoardo come va e soprattutto buona serata. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Edo, ciao, grazie di essere venuto e ovviamente grazie a te. Grazie a voi per l'invito, va bene, va molto bene, soprattutto dopo l'ultimo periodo e quindi niente, posso solo che essere contento. Eh sì, in effetti è stato, le ultime due partite avete raccolto tutto quello che state seminando, perché è un Como, partiamo subito veloci, andiamo veloci come andate voi in campo. Dopo gli facciamo vedere anche il volto di Bovolone che ha la mascherina, ma dopo lo facciamo vedere ai tifosi che sono a casa. Si stanno raccogliendo finalmente i frutti di tante partite, di tante fatiche che sono state dimostrate fin dalla prima giornata, perché è un Como che gioca a viso aperto dal primo minuto all'ultimo minuto, c'è stato qualche inciampino, io lo chiamo così, magari nel secondo tempo con l'Ascoli è mancato qualcosa col Benevento, ma per il resto un Como stratosferico, soprattutto domenica, sabato scorso, l'ha detto anche il mister nella post partita, questa è stata la miglior prestazione. Sì, io credo che comunque sia stato normale, magari un inizio un po' difficoltoso, perché è una nuova categoria e quindi il livello si alza ulteriormente, ma ci è voluto tempo, ma io credo che nelle ultime partite soprattutto si stia vedendo la compattezza e l'unità del gruppo, della squadra e siamo davvero contenti perché serviva, perché va bene fare prestazioni, le prime partite sono state fatte prestazioni, magari contro un paio di tempi sono stati sbagliati, ma c'è sempre stata prestazione da parte della squadra, però quello che conta nel calcio sono i punti, quindi queste due ultime due partite sono state davvero fondamentali anche per dare un po' di morale alla squadra e per far capire che il lavoro duro paga sempre. Ha proprio ragione, il lavoro duro paga sempre e i frutti si raccolgono. No, rido perché ci sono già i nostri amici che mandano messaggi. Ti vogliono bene, sicuramente. Cinque anni qui, sono tanti. Aspetta, poi c'è anche la messaggistica, cioè la diretta, ma anche quella di Facebook. Allora, c'è Samuele che dice Domenica Spalcomo 01, rete di Bovolon, che non è uno che segna spesso, vero Edo? No, non mi ricordo neanche l'ultimo che ho fatto. Ciao Clara, un saluto anche a Roberto, a Samuele, anche sì, il nostro Samuele è un grande Edo con un bel cuore azzurro, ma un saluto anche a Luigi. Poi ci sono un paio di altre domande, vai pure, poi le leggiamo dopo. Dalla serie B alla C e adesso in B, ovviamente poi i debiti scongiuri, vedremo cosa succederà. Qual è l'approccio, soprattutto questa serie a cadetta, che come hai detto qualche minuto fa, comunque è molto impegnativa? Beh, diciamo che io credo che tutto passi dal lavoro e dal non porsi mai limiti. Io credo che il lavoro paghi sempre e che quindi sia il salto di categoria dalla D alla C non è stato facile e neanche dalla C alla B è facile. Però ovviamente grazie anche ai compagni che quando arrivano compagni con un'importanza, un certo livello, ti riescono ad aiutare molto e tu devi essere bravo a sfruttare e a cercare di capire più che puoi da chi ti può insegnare. E quindi fortunatamente quest'anno sono arrivati degli ottimi acquisti, dei giocatori veri, anche dalla Serie A e quindi è anche più facile imparare da persone che sono davvero forti. Quindi posso solo che essere contento perché è un arricchimento del mio bagaglio sia come persona ma anche e soprattutto come giocatore. Ti riescono a insegnare quei trucchetti o quello che serve per magari riuscire a stare nelle categorie più alte. E' impressionante ascoltarlo. Allora era arrivato cinque anni fa, la prima volta che ci vedevamo in radio, in conferenza stampa dopo la partita, è sempre stato un ragazzo umile, ma ancora adesso che ha raggiunto comunque... un friuliano, non dimentichiamoci, insomma c'è proprio il DNA di essere terra di grandissimi campioni, friuli, anche campioni del mondo, eccetera eccetera, ma con questo DNA loro devono concreti, essere concreti, giusto Edo? Giustissimo. E questo. Nonostante quest'anno per te sia stato, al momento, ancora un po' difficile trovare la posizione e soprattutto il posto tra gli undici che scendono in capo magari al primo minuto, però dimostri sempre quella gran voglia che hai sempre dimostrato in passato, tu non hai mai mollato. C'è anche Dino che dice proprio questo, forza Edo arriverà anche il tuo momento, ma poi ci saluta anche Daniela da Firenze, sì anche Samuele che ci guarda la Toscana, ma anche Luca Arcobello, ciao Luca è un bel piacere ritrovarti con tanti cuori azzurri, ma poi c'è anche l'altro amico Luca che ci ha scritto, Edo, come fai, come hai fatto in questi anni a farti trovare sempre pronto, ce l'ha scritto su Messenger, questo nostro, perché c'è anche la messaggistica di Messenger, quindi usiamo anche quella, perché in effetti in realtà è vero che tu in qualsiasi momento, anche negli anni scorsi, pronti via, il mister ti chiama. Adattandosi anche a ruoli diversi. Adattandosi a ruoli diversi, questo... Sì, io credo che questa sia una delle mie caratteristiche, magari non sono quello che ti salta l'uomo, ma sono quello un po' più affidabile, e credo che sia una cosa molto importante, io comunque sono sempre a disposizione, cerco di dare sempre il massimo in allenamento, e quindi credo che sia anche una cosa bella all'interno di un gruppo, perché un gruppo va avanti se è unito e se tutti si sentono parti di una squadra importante, e quindi lavorare a sodo poi ti porta sempre ai risultati, in qualsiasi caso, in qualsiasi occasione, bisogna farlo per se stessi, per il gruppo e per farsi trovare pronti, perché non si sa mai. Questa è la filosofia che, appunto, diciamo a Luca, che ci ha scritto, ci chiedeva appunto, chiedeva ad Edoardo appunto come fa a essere sempre pronto quando il mister lo chiama, non solo quest'anno, ma soprattutto negli anni scorsi, e che aggiunge anche, ha scritto anche Luca, chiedeva di un tuo giudizio su questo ambiente, l'ambiente di quest'anno, credo, immagino, la squadra, il gruppo squadra, immagino che impatta... No, ma io credo che l'anno scorso eravamo davvero un gruppo fantastico, e quest'anno posso dire, sono contento di poter dire lo stesso, perché tutti gli acquisti nuovi che sono arrivati sono dei ragazzi eccezionali, alla mano, gentili, simpatici, ci sono adattati subito, e ci sono subito messi a disposizione, e quindi quando hai dei ragazzi del genere fai fatica a non fare gruppo e amalgamare bene tutto lo spogliatoio. Per me sei un ottimo centrocampista, ci scrive Dino, poi adesso sentiamo cosa ne pensa il direttore interessato, ma c'è anche chi come Giovanni dice vogliamola a... E sarebbe bello, è un sogno, dalla via... Sì, ma io credo che in cinque anni sia stato fatto già un grossissimo percorso, la cosa più importante è stata la dimostrazione di aver pazienza e di lavorare grado per grado, punto per punto, non è così scontata la categoria, non è così scontato quello che è stato fatto per arrivare fino alla Serie B, perché comunque l'anno scorso è stato fatto un ottimo campionato, e quindi un passo alla volta, io credo che l'importante adesso sia consolidare la categoria, step by step si arriva lontano, se si vuole tutto subito poi si rischia di non essere concreti. Veniamo alla prestazione di sabato... E poi anche fargli rispondere sul fatto che se lui si sente un ottimo centrocampista o un difensore... A me piace molto fare centrocampista. Quindi ha ragione Dino? No, però anche il difensore non mi dispiace. Poi magari ci sono in una difesa 3, mi trovo meglio che in una difesa 4, però non lo so, se dovessi scegliere un ruolo, forse preferirei in una difesa 3. A me piace molto la grinta che mettete in campo, aggiunge anche Giovanni, quindi tanti apprezzamenti direi per te, per i tuoi ragazzi, per i tuoi compagni. E' un'aggressione continua in campo, dal primo minuto all'ultimo minuto non si molla mai, l'abbiamo visto a Brescia, l'abbiamo visto sabato scorso contro quella, ormai tra virgolette, la bestia nera, ce la si trova sempre amichevolmente, sportivamente parlando, ce la si trova sempre in mezzo, l'Alessandria. E guarda caso negli ultimi anni comunque ne avete presi di punti e di soddisfazione a cominciare dalla grande vittoria di sabato, ma anche dell'anno scorso. Certo, certo, ma io credo che anche nelle scorse partite magari comunque devi prendere un attimo il ritmo, devi entrare in condizione, però l'anno scorso soprattutto è sempre stata la nostra caratteristica, l'aggressione in avanti per tutta la partita. E quindi una volta che si entra in condizione, una volta che si è consci dei propri mezzi, poi risulta tutto più facile. La vittoria di Brescia ci ha dato una grossa spinta, siamo arrivati contro l'Alessandria, consapevoli di noi stessi, e quindi è stato tutto un po' più semplice. Una cosa che mi va di sottolineare, l'ho già fatto anche nelle scorse settimane, ma è un crescendo pazzesco quello della coppia centrocampo Bellemo-Rigoni. Bellemo adesso si è messo pure a segnare, quindi è meglio di così, ma quanti chilometri? E poi soprattutto quante geometrie? C'è chi paragona a Rigoni anche a un famoso, come possiamo dire, regista di qualche anno fa, Iniesta, tanto per far nomi, a me gli assomiglia anche un po'. Cosa ne pensi? No, no, sono un'ottima coppia insieme, devo dire che credo che si completino. Poi magari era un Tommaso che faceva un po' più di gol, ma adesso si è sbloccato il capitano, quindi siamo contenti così. È impressionante, lo voglio dire anche a tutti gli amici che ci seguono, la prestazione di Bellemo è stata sopra le righe in tutti i sensi, non solo per il gol, che è stato bellissimo, perché un gol del genere non è facile da fare, ma soprattutto perché corre, va a chiudere, recupera palloni, insomma, addirittura c'erano cronisti di Alessandria che durante la partita continuavano a dirmi ma non si ferma mai, non si ferma mai il vostro capitano. Dico, no, no, è questo e tenetevelo stretto. Io credo che sia l'anima della squadra e che sia davvero un giocatore fortissimo e che meriti molto, molto altro. E parliamo anche magari della condizione fisica e di salute atletica di tutta la squadra, perché speriamo tutti di avere quanto prima in campo il bomber, ovvero Cerri là davanti. Concerri, insomma, l'abbiamo sempre detto, un uomo di peso e soprattutto nella fase offensiva riesce ad aprire domenica e sabato scorso abbiamo avuto qualche problema nel primo tempo. Siamo stati anche un po' sfortunati, no, in alcune occasioni, ma poi finalmente quando si è sbloccata la partita non avete mai sofferto. 90 minuti senza soffrire, credo che non ci sia stato un tiro in porta dall'Alessandria. Questo è significativo. Uno solo, un colpo di testa, ma comunque è chiaro che Alberto sia un giocatore molto importante all'interno della squadra e è chiaro che se non c'è bisogna adattare un modo di giocare diverso, perché è un giocatore con determinate caratteristiche che ti permettono di... però io credo che anche gli altri ragazzi abbiano fatto bene, molto bene e quindi è solo di adattare stili di gioco differenti, ma per il resto sono tutti degli attaccanti davvero forti. Aggiungo anche i saluti di Giuliana, da Turate, grazie, ciao Giuliana, un caro saluto anche a te e un altro nostro amico, che però non si firma, l'ho visto prima, che dice come ti trovi Edo a Como dopo questi anni? Beh, perché ormai sei quasi comasco, quasi mangi la polenta e la cazzuola, che è un piatto tipico. La polenta la mangiavo già. La polenta la mangiavi già in Friuli, in vera, c'hai ragione anche te. No, ma mi trovo bene, è normale, da ormai cinque anni che sono qua conosco molto bene il posto, conosco anche le zone limitrofe, quindi mi trovo molto bene, devo dire. Perfetto, quindi molto bene a Como. Vai pure Mario, ancora qualche minuto con Edoardo. E allora facciamo uno sguardo in avanti, prossimo match, Ferrara in uno stadio importante. Passo indietro, i tifosi sabato sono stati fantastici, una spinta. Sì, ero davvero contento di vedere lo stadio finalmente così, perché oltre che all'aspetto estetico e visivo danno davvero una grossa mano in campo, è come giocare in 12 e quindi sono contento perché finalmente si ritorna a rivedere lo stadio come merita di essere. Infatti perché i mesi trascorsi senza pubblico sono stati tremendi. Voi avete sfruttato al meglio quella situazione che non c'erano tifosi, avete fatto numeri da capogiro, avete venuto il campionato, ma oggi come oggi ritornare a sentire tutti questi cori, tutti questi colori, tutte queste bandiere. Non apprezzo, sembra di fare un altro sport. Il migliore, scrive Katia, è riferito a Edo, un ragazzo di grande umiltà e questo ormai è una caratteristica, però un ragazzo vedo che è molto seguito e amato, sicuramente stimato, ecco direi, stimato da chi viene allo stadio, dai tifosi, anche appunto l'anno della pandemia, certo ha inciso pesantemente, no? In effetti, come hai detto tu, sembra adesso di tornare a fare un altro sport, un'altra cosa. Che poi è la normalità, dai Edo, va bene. Mario, ultimi due minuti a te, poi lo facciamo vedere anche fuori. Vuola il tempo quando parliamo con Edoardo, perché... Vabbè, parliamo della prossima match. Ferrara, uno stadio, una piazza importante e un match importante. Sì, è un match molto importante, ma io credo che bisogna affrontarlo con la consapevolezza di queste due vittorie, ma allo stesso momento non bisogna montarsi a testa, non bisogna andare lì appagati e bisogna rimanere con la stessa grinta, la stessa determinazione che ci ha contraddistinto dall'inizio del campionato. Chiaro che l'avversario è tosto, è difficile, però abbiamo vinto a Brescia, quindi credo che parli da solo questa cosa. E poi ricordiamo anche che ci sarà una partita dopo pochi giorni, perché si giocherà, se non ricordo male, giovedì. Il turno tra settimane, esatto. Sì, anche lì il mister magari avrà la possibilità di dosare un po' la rotazione, quindi magari arriva anche il tuo momento in questi giorni. Sì, beh, è chiaro che l'importante è farsi trovare pronti, poi se arriva il momento, bene, ma il mister deve fare le sue scelte e fa il meglio per la squadra. Io sono contento di poter dare una mano, come lo stanno dando molti altri miei compagni, ma l'importante, non smetterò mai di dirlo, è il gruppo che viene prima di qualsiasi altra cosa. E se non ci sono commenti, benissimo. Allora ricordiamo, visto che siamo in chiusura anche dell'iniziativa del Calcio Como, insomma, ha colto tutti di sorpresa. Abbiamo Alessandro Camagni, che lo ringraziamo per essere qui con noi, per averci portato questa sera Edoardo Bovolone, ma lo ricordiamo, è un'iniziativa, è la prima forse, Alessandro in Italia, non so, all'estero, però, insomma, pagare da bere è una bella cosa. Però ricordiamolo, perché giustamente ci hai fatto notare, allo scadere della partita, gli esercenti, i bar, insomma, scelti in quel momento, perché sarà sempre segreto il luogo o i luoghi dove si potrà, dove il Como offrirà da bere, lo offrirà proprio alle persone che in quel momento sono presenti nell'esercizio commerciale. Quindi non è che uno esce dallo stadio, magari va a farsi un giro e va a vedere se... No, in quel momento la società chi è già lì viene omaggiato, diciamo così, è corretto, giusto Alessandro? Ok, perfetto. È così, quindi il Como offre da bere, perché, insomma, perché si vince, speriamo di dare molto da bere. Speriamo sì, bere sempre responsabilmente, ma speriamo di sì. Visto che tu te ne intendi, insomma, là hai dei grandi vini da te. Devo dire che non ci trattiamo male. Esatto, vini e anche distillati, direi, Edo. C'è un po' di tutto. È un'ottima zona. È un'ottimissima zona la tua, veramente. Va bene. Allora... Forse non l'abbiamo ancora chiesto, Edo, o in passato sì. Cosa? Comunque glielo chiediamo un'altra volta. No, dì. Un calciatore, magari del passato, al quale tu ti ispiri. Ma io... A me... A me... No, io non ho mai avuto un idolo preciso, perché mi sono sempre piaciuti tanti giocatori, ma... No, no, Cambiasso mi è sempre piaciuto molto. Perché non aveva doti a Chelsea, ma era davvero un giocatore straordinario, intelligente... E' un minuto in campo. 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 Insomma, è un grandissimo, certo Cambiasso, è un grandissimo. Va bene, noi amici, c'è anche Ramona che ci saluta in chiusura. Ciao Marco, vi aspettiamo a Faggetto e forza Como. E va bene, ciao Ramona. Saluti anche te. L'altro nostro amico invece ti aspetta a Grandate per farti la polenta e la cazzuola. E va bene, ciao, un saluto a tutti. Grazie, grazie a Mario di essere stato con noi al Como per averci portato questo grandissimo ormai protagonista che ormai è diventato un po' comasco che è Edoardo Bovola. Grazie a voi. In bocca al lupo. Ah no, facciamo vedere anche il vuoto di Edoardo. Esatto, con un saluto ai tuoi tifosi. Sono sempre io. Esatto. Grazie, un saluto a tutti. Ciao Edo. Ci vediamo allo stadio. Grazie Edo, davvero.